È un algoritmo ad aiutare i medici dell'ospedale Sandonato di Arezzo a limitare il più possibile l'intubazione dei pazienti positivi al Covid e il loro ricovero in terapia intensiva, un metodo che è stato studiato e messo a punto dal primario di pneumologia, il dottor Raffaele Scala, insieme ad un collega portoghese. Si tratta di un sistema che permette con istruzioni per l'uso molto ben precise, basate sui dati pubblicati in letteratura di come e quando iniziare il trattamento di assistenza respiratoria nelle persone che hanno sviluppato una polmonite da Covid-19, quindi come incrementare il livello di intensità di assistenza e come ridurlo dall'applicazione dell'ossigenoterapia, cioè dell'ossigeno erogabile attraverso le cannone nasale o una semplice maschera, fino a salire attraverso un sistema di alti flussi che garantisce un supporto soprattutto di aria, per poi arrivare alla C-PAP con il casco che purtroppo è diventato famoso in questo ultimo anno, alla ventilazione non invasiva con maschera o anche con casco, allo scopo di poter selezionare i pazienti che effettivamente possono essere candidabili al trattamento invece dell'intubazione, al passaggio in terapia intensiva in rianimazione, allo scopo effettivamente di trasferire quelli che hanno effettivamente bisogno, evitando ovviamente il sovraccarico di questo reparto così prezioso e al tempo stesso questo algoritmo va a indicare le tappe, i passi che possono e devono essere fatti in senso opposto, cioè l'intensità di cura più alta fino a quella più bassa e quando possibile liberare il paziente alla guarigione da qualsiasi tipo di assistenza respiratoria. Ecco, è un sistema che può essere applicato in tutti gli ospedali, su base immagino nazionale ma anche internazionale perché appunto il medico che l'ha studiato insomma insieme a lei è un collega portoghese. Esatto, lo scopo diciamo di questo tipo di algoritmo che è nata da questa collaborazione nel contesto della Società Europea di Malattie Respiratorie è proprio quella di poter indicare ai medici che si occupano di questo trattamento per la polmonite da Covid ma ovviamente anche per altre polmoniti quando effettivamente effettuare questo tipo di trattamento e non basarsi soltanto su aspetti che sono magari basati su elementi non dimostrati diciamo dalla letteratura scientifica. È un algoritmo ovviamente che nasce dall'analisi di tutti i lavori, tantissimi purtroppo che sono stati pubblicati in questo anno per la problematica pandemica e allo scopo appunto di poter dare un abuso, un orientamento a tutti i medici che si occupano e nel frattempo è in corso una raccolta di dati per poter meglio validare e concretizzare come questo percorso, questo algoritmo possa migliorare la gestione di questa polmonite da Covid-19. Dottor Scala, lei è sempre stato molto franco, schietto nel raccontarci qual era la fotografia insomma non solo del suo reparto ma della bolla Covid e di quello che accade al di là di quella porta. Come siamo messi? Ma diciamo che i numeri sono negli ultimi mesi sono stati in fluttuazione a livello medio diciamo ecco non alla punta che abbiamo raggiunto massima nei mesi di novembre e dicembre arrivando a 125 casi nell'area premo-infettivologica esforando abbondantemente nella terapia intensiva con la necessità di occupare anche posti letto annottono come ben sapete. Ora la situazione certamente non è drammatica in questo modo però non bisogna negare che nell'ultima settimana c'è un incremento del numero dei casi, dei ricoverati nella nostra, quella che viene definita bolla Covid e proprio nel pomeriggio purtroppo supereremo molto probabilmente anche gli 80 a meno queste sono le previsioni per oggi 80 ricoverati e quindi saremo costretti ad aprire un'altra piccola area che è la zona del Covid-3 con un altro piccolo surplus di posti letto proprio per poter fronteggiare quindi l'atteso incremento che è dovuto sapete a tanti fattori diciamo quindi sia quello di tipo ovviamente contentivo quindi che tende con la strategia cromografica con i colori ad aprire o meno la regione e sia sicuramente anche la maggiore prevalenza delle varianti che ovviamente hanno purtroppo una maggiore contagiosità e diffusibilità Questi vaccini, dottor Scala, coprono o no tutte le varianti? Sembrerebbe di no? Per quello che noi sappiamo certamente per quelle varianti che hanno minore modifica tra le strutture del virus è verosimile diciamo che la serie dei vaccini che sono stati messi diciamo in atto appunto a meno quelli che hanno passato l'autorizzazione che sono stati utilizzati possono avere una copertura sia pure variabile non abbiamo certezza di come possa impattare per altre varianti probabilmente questa efficacia è minore quindi vale sempre la stessa regola ovviamente in attesa di poter valutare poi sul campo quanto il vaccino sicuramente possa migliorare la situazione e ridurre la circolazione del virus dobbiamo contribuire tutti quanti ovviamente a ridurla con i dispositivi di protezione individuale con i dispositivi di protezione individuale